Io sono bianco, ho bisogno di una ragazza nera. È davvero? Puoi uscire con una ragazza nera o bianco? Quale preferisci? Ma tutte e due, ma non c'è differenza assolutamente. Ma a te quale preferisci? Ma nessuna delle due. Hai mai uscito con una ragazza nera? Ragazza nera o bianco? Non cambia niente. Sei sicuro? Quale preferisci? Devo scegliere uno o due. Quella che mi piace di più. Ma quale? È da vedere. Magari la bianca brutta, l'altra è più bella, mi piace di più. Bisogna vedere dalla ragazza, no? Una ragazza bianco o una ragazza nera? Marroncina. Marroncina. Una via del mezzo, no? Così non c'è il duro. Ma a te quale preferisci? Io quelle... come si chiama? Quelle... no, ispaniche. Quelle latine. Quella latine. A posto detto marroncina. Dipende, è oggettiva la roba. Cioè, dipende quant'è bella la ragazza bianca e quant'è bella la ragazza nera. Secondo... La ragazza bianca. Quella latine. Grazie a tutti